Il Moli si aspetta i vaccini antinfluenzali dalle regioni più grandi, per il governo locale di centrodestra si attendono altre 23.000 dosi, ma i numeri non convincono. Rassicurazioni giungono dal Ministero dei Trasporti sulla continuità del servizio di collegamento via mare, dal porto di Termoli alle Tremiti. C'è cauto ottimismo. Ricorre domani la 39esima giornata internazionale delle persone con disabilità. La pandemia ha accentuato i disagi negli alunni con il sostegno. Ben trovati dalla redazione giornalistica di TLT. Raffica di denunce in Alto Molise al vaglio della Procura della Repubblica di Isernia per truffe e ingenti danni all'erario. Vediamo. Truffa, falsità ideologica, indebito conseguimento di erogazioni pubbliche e del reddito di cittadinanza. Sette le persone segnalate dai carabinieri nell'ultimo periodo alla Procura della Repubblica di Isernia. I militari della stazione di Cantalupo hanno individuato il raggiro abilmente organizzato dai titolari di una società operante nel commercio di prodotti alimentari, che producendo false autocertificazioni facevano risultare un investimento di oltre 250.000 euro per la realizzazione di uno stabilimento commerciale in Campania, ma allo stesso tempo sconti su premi assicurativi e tasse di proprietà dei numerosi automezzi societari, in ragione del più favorevole regime fiscale del Molise, per un danno al fisco appunto di 250.000 euro. Gli stessi militari di Cantalupo hanno inoltre denunciato altri due campani, che proprietari di alcuni immobili nell'area Matesina li avevano adibiti a bed and breakfast in assenza di alcuna autorizzazione e che, mediante false attestazioni, avevano richiesto la residenza in Molise, al fine di ottenere indebitamente risparmi sui costi delle polizze assicurative dei cinque mezzi di proprietà. Stesse false attestazioni per ottenere sgravi sui premi assicurativi di 15 tra auto e ciclomotori, scoperte dai carabinieri di Rionero Sannitico, e infine un illecito reddito di cittadinanza venuto a galla dalle indagini dell'arma della stazione di Frosolone nei riguardi di un uomo originario della Campania. E' una badante quarantenne romena, domiciliata a Mirabello Sannitico, che per ottenere il reddito di cittadinanza ha dichiarato il falso. Il terzo caso, in pochi giorni ad essere scoperto dai carabinieri, è denunciato alla procura di Campobasso, la donna per ottenere il beneficio economico dallo Stato, aveva omesso di dichiarare la sua convivenza con un uomo che pure percepisce lo stesso sussidio e che quindi non le avrebbe dato diritto a prenderne un altro. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, oltre ad interrompere l'erogazione del reddito, provvederà al recupero delle somme percepite in modo fraudolento. Cambiamo argomento. Al fine di prevenire la diffusione del contagio da coronavirus, i test sierologici svolgono un ruolo di fondamentale importanza. Andiamo a vedere. I test sierologici sono utili perché verificano la risposta immunitaria. E' questo il pensiero della farmacista abruzzese Marussia Pietro Cola, che interrogata sulla questione da vastoweb.com, ha voluto evidenziare i vantaggi dei test in tema di prevenzione e diffusione del coronavirus, spiegandone l'effettivo funzionamento. I test sierologici prevedono il prelievo di sangue capillare, che viene quindi effettuato tramite un pungilito. Successivamente, tramite una reazione antigene-anticorpo, viene verificata la positività del soggetto. Nei test sierologici che effettuiamo noi in farmacia, c'è la possibilità di discriminare la positività alle IgG e alle IgM. Sono due immunoglobuline diverse che vengono prodotte dal nostro sistema immunitario in due momenti diversi della risposta immunitaria. I test antigenici che andiamo ad effettuare in farmacia hanno una sensibilità intorno al 90% per quanto riguarda dal quarto al decimo giorno di infezione e superiore al 97% nei successivi dieci giorni dall'infezione. Ritengo che sia utile perché comunque verifica una risposta immunitaria e abbiamo un pronto risultato in 15 minuti. Normalmente, in caso di positività, noi comunichiamo ogni 30 minuti dati all'ASL, per cui la persona eventualmente positiva verrà contattata dall'ASL per essere messa in quarantena e successivamente verrà sottoposta a tampone molecolare. La Regione Molise ha acquistato di recente circa 64 mila vaccini anti-influenzali, tuttavia non è riuscita a reperire la parte restante, almeno altre 60 mila dosi, e quindi si è affidata ad un accordo con altre amministrazioni regionali. Secondo questo accordo, fa sapere Angelo Primiani del Movimento 5 Stelle, le regioni più popolose avrebbero fornito le dosi mancanti in modo da permettere la copertura dell'intero fabbisogno. Attualmente il Molise ha esaurito il primo lotto di dosi e non vi è traccia dei vaccini che dovevano arrivare dagli altri contesti della penisola. Invece per il Presidente della Giunta, Donato Toma, mancherebbero all'appello solo 23 mila dosi di vaccino anti-influenzale. Dopo la Valle d'Aosta, il Molise è secondo in Italia per tasso di mortalità al 2,1% in compagnia della provincia autonoma di Trento. La curva dei decessi provocati dal virus è ancora in crescita, con un più di 7% rispetto alla settimana precedente. Le misure restrittive messe in atto dal Governo nazionale riducono nell'ordine prima gli indici di contagio e a seguire i ricoveri, le terapie intensive e infine i decessi. Il Governo centrale e le realtà istituzionali regionali hanno l'obiettivo comune di cercare di limitare i rapporti di vicinanza tra le persone al fine di contenere i contagi. Sono già pronti i nostri studenti fuori sede che studiano nelle tante università italiane ed europee, come sono già pronti a rientrare tutti coloro che fuori dal Molise ci lavorano, impegnandosi in molti settori e in numerose categorie, avendo trovato altrove la possibilità di una vita lavorativa, almeno dignitosa. In questo mese di dicembre è permesso loro il ritorno, anche se il Governo centrale sta cercando di dissuadere il più possibile circa gli spostamenti tra regioni e nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, perfino tra i comuni limitrofi. Lo ha dichiarato il Ministro Speranza, riferendo al Senato attraverso le sue comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid. Dobbiamo affrontare le feste con massima serietà, ha detto in modo chiaro e determinato. Se non vogliamo nuove misure a gennaio per le feste, le limitazioni previste dovranno essere rafforzate anche nel quadro di un coordinamento europeo. Bisogna limitare il più possibile i contatti tra persone. Tutto per evitare una chiusura generale, tutto perché non sarebbe possibile mettere la curva dei contagi sotto controllo e non reggerebbe il sistema sanitario, come già ci stiamo accorgendo tutti noi molisani in questi giorni, dove sono davvero troppe le persone che non si riesce a mantenere in vita. Ha parlato anche di vaccini il Ministro della Salute, affermando che non è pensabile, almeno adesso, di renderlo obbligatorio. Anche se, vogliamo sottolineare noi, il lavoro sarà quello di costruire una campagna vaccinale imponente attraverso un sistema sanitario che sia adeguato ad assolvere il compito. C'è la percezione di una terza ondata che deve essere governata con attenzione in ogni parte del Paese. Tutti, per quanto ci riguarda, devono fare la loro parte. Governo, regioni, comuni. A che si arrivi veramente ad abbassare quel famigerato indice RT che indica la dimensione del contagio e che è un po' ovunque troppo alto. In Molise, altissimo. Sui vaccini, la comunicazione è precisa, saranno pronti da gennaio e somministrati gratis a tutti gli italiani. Nessuna diseguaglianza sarà ammissibile nella campagna di vaccinazione. I primi a ricevere i vaccini saranno gli operatori sociosanitari, i residenti delle RSA e gli anziani. E poste italiane da metà dicembre attiverà tamponi rapidi effettuati negli uffici che hanno registrato più casi di contagio da coronavirus. La prima fase coinvolgerà 7.000 dipendenti postali dell'intero Paese per poi proseguire su circa 140 sedi e 25.000 unità lavorative. La somministrazione del tampone avverrà solo su base volontaria. Lunedì 7.000 diverse sigle sindacali hanno promossa diserni a un presidio pubblico di medici e infermieri dinanzi all'ospedale veneziale per proclamare lo stato di agitazione del personale sanitario molisano causa le mancate soluzioni delle problematiche che investono il comparto pubblico. Il presidio si terrà dalle 10.30 alle 13 del mattino. Cambiamo adesso argomento. A Castelmauro un turismo sostenibile e innovativo per dare nuova vitalità al territorio. Ai nastri di partenza una pista ciclabile e pedonale. Castelmauro guarda il rilancio del territorio attraverso un turismo sostenibile e innovativo. Sarà infatti realizzato un percorso pedonale ciclabile per collegare il fiume Biferno al Trigno, un progetto finanziato dal contratto istituzionale di sviluppo firmato dal Premier Conte, protagonista inoltre la zipline, un cavo d'acciaio unico sospeso tra due punti con quote differenti al quale ci si aggancia per una veloce discesa, regalando la sensazione del volo libero. A Castelmauro si partirà da un'altezza di 1.040 metri, precisamente dalla faggeta di Monte Mauro, in prossimità di uno dei migliori osservatori astronomici d'Italia, fino a scendere a 630 metri. Sarà così possibile ammirare Campitello Matese, Maiella, Gran Sasso, Golfo di Vasto, i Monti Dauni, il lago di Lesina, quello di Guardia Alfiera, le isole Tremiti, tutta la costa adriatica, Abruzzo, Molise e Puglia. E' entusiasta il sindaco Flavio Boccardo, la pista ciclabile e pedonale spiegato donerà al Molise un nuovo percorso che attraverserà Monte Cilfone, Guardia Alfiera, Palata, Acquaviva con le Croce, Rocca Vivara, Tavenna, Mafalda, San Felice del Molise, Montemitro e Monte Falcone del Sagno, con la possibilità di visitare siti naturalistici, culturali e storici, per un totale di circa 40 km di pista. Saranno poi realizzate aree attrezzate e di sosta destinate ai camper, proprio per favorire un turismo di qualità, che apprezzi le peculiarità del Molise. Solo l'inizio per un programma ancora più ambizioso e ampio, che qualora vedrà nuovi finanziamenti ai quali si sta già lavorando, ha aggiunto Boccardo, sarà ampliato valorizzando il territorio, mantenendo salubre l'ambiente e puntando su un turismo a vocazione culturale e di benessere della persona. Nella piana di Venafro è stata portata alla luce un'antica villa romana e quattro sepolture nelle opere di rinnovo della linea elettrica di Terna da Capriati a Presenzano. Vediamo qui le immagini. Gli scavi archeologici, durati circa sei mesi, hanno permesso di individuare strutture riconducibili ad una villa riutilizzata nell'Alto Medioevo. Tra gli ambienti è stata rilevata la presenza di una piccola fornace per la produzione di mattoni e tegole nel corso del I secolo d.C. Il prefetto Vincenzo Cardellicchio è il nuovo presidente del Collegio di Garanzia sul Trattamento dei Dati all'Università degli Studi del Molise. L'organo è chiamato a garantire che le attività dell'Ateneo, inerenti informazioni e tutela della privacy, si svolgano con la necessaria garanzia dei diritti della persona. Il dottor Cardellicchio ha svolto la sua carriera con funzioni di rilievo nei dipartimenti di pubblica sicurezza, raggiungendo gli incarichi più rilevanti. Erbicidi pericolosi per la salute umana sarebbero stati accertati in alcuni marchi nazionali di pasta di gran lunga e meglio preferire prodotti di casa nostra. Sette marchi di spaghetti su 20 contengono tracce di glifosato, un pericoloso erbicida utilizzato nelle campagne per contenere la diffusione dei parassiti nel frumento, ma di uso comune anche nei parchi pubblici e nei giardini di casa per debellare erbe infestanti. In passato a preoccupare i consumatori erano soprattutto le importazioni di grano da lontano Canada, ma oggi sulle tavole di casa nostra fanno bella mostra marchi che potrebbero contenere la sostanza chimica cancerogena per la salute delle persone. A contenere il glifosato, secondo un'indagine nazionale del salvagente, ci sarebbero gli spaghetti della S. Lunga, Garofalo, Tremulini, Agnesi, Rummo, Di Velle e Combino. Per coloro i quali non riescono a stare lontano da un bel piatto di pasta, i rischi sarebbero alti a livello intestinale e di alterazione al sistema endocrino. Il parere di esperti internazionali, da non dimenticare nemmeno la vomitossina, particolarmente dannosa per la salute dei bambini al di sotto i tre anni, è presente anch'essa in alcuni marchi di pasta italiana. Il Ministero dei Trasporti ha la volontà di confermare il collegamento marittimo tra il porto di Termoli e le isole Tremiti e lavora con l'azienda Tirrenia proprio in questa direzione. A livello economico-finanziario la tratta in Adriatico va sostenuta con la compartecipazione dello Stato. Per questo le procedure di gara dei contratti di servizio saranno bandite in tempi brevi. Se ne conoscerà di più dopo il 15 dicembre, quando il Ministero invierà gli esiti dell'indagine sul comparto alla Commissione europea. Il Comune di San Massimo ha avviato un percorso solidale mediante la programmazione di attività sociali racchiuse nello sportello Tendiamo le mani. Il Comune Matesino intende prendersi cura della comunità mediante la consegna dei pacchi alimentari. L'obiettivo primario è quello di garantire la distribuzione dei beni alimentari Caritas a sportello o a domicilio. Destinatari saranno 105 cittadini. L'ordine dei giornalisti e l'Associazione della Stampa regionale insieme per contrastare la diffusione di notizie che non passano dagli uffici stampa. La corretta informazione non è di tutti. Sono nati in questi ultimi anni miriadi di meccanismi di comunicazione dove la notizia, quasi sempre incontrollata e perfino falsa, circola nella piena libertà, nella disfunzione di arrecare spesso e volentieri enormi danni alle persone citate che neanche trovano occasioni di rettifica e di difesa delle proprie opinioni. Un percorso informativo che diventa perverso, scorretto e assolutamente da perseguire. A questo proposito scendono in campo per l'ennesima volta l'ordine dei giornalisti del Molise e l'Associazione regionale Stampa per cercare di trovare una soluzione a questo modo di fare giornalismo che non è assolutamente legale ma che utilizza mezzi e modalità lontani anni luce dalla professione. Un modo di fare che degenera dalle leggi e che sembra essere tollerato da tutti. Basta pensare che perfino gli organi di Stato, i partiti e molte istituzioni utilizzano addetti stampa che non hanno alcun requisito per poter svolgere tale lavoro. Una vicenda che in certi casi viene stroncata dai magistrati e dalle forze di polizia. Basti pensare al reato di chi opera nel campo medico senza avere spesso né laurea adeguata e quindi neanche iscrizione agli albi professionali. Riguarda e ha riguardato tante persone che sono state indagate e condannate. Nella professione giornalistica invece sembra tutto tollerato e alla luce del sole molti sono lasciati operare e diffondere notizie, perfino quelle alquanto lontane dalla verità. A tal riguardo comunque l'invito in questa fase viene rivolto ai direttori delle testate giornalistiche ufficiali e perfettamente registrate. Quello di iniziare a non tenere in considerazione e dunque diffondere le notizie affidate a comunicati stampa che non siano debitamente firmati da giornalisti. Questo affinché il settore venga quantomeno riportato al giusto posto e i giornalisti possano ritrovare tutti insieme una loro dignità. L'ultimo Consiglio regionale a Palazzo Daimmo di Campobasso ha approvato alcune modifiche all'organizzazione del Comitato regionale per le comunicazioni. Rinviate invece le proposte di legge in materia di cultura e spettacolo e l'istituzione del Parco archeologico storico naturale di San Vincenzo al Volturno. La prossima seduta dell'Assemblea di via 4 novembre tornerà martedì 9 dicembre. Il centro-sinistra al Municipio di Campobasso propone un libro per ogni nato, un seme per costruire una società del futuro che si rega sulla conoscenza e sulla fantasia. Il Comune Capoluogo, con la sua bibliomediateca, deve continuare a puntare sulla promozione della lettura per far crescere la passione per i libri a tutte le età, un modo per coltivare intelligenze nella gente e sostenere le librerie. Aiutare coloro che sono in difficoltà ricorre domani la giornata internazionale per sostenere le persone con disagi. Si celebrerà domani la giornata internazionale delle persone con disabilità, una data istituita nel 1981 dall'ONU in occasione dell'Anno Internazionale delle persone disabili, per promuovere i temi sostenendo l'inclusione al fine di ridurre problematiche e discriminazioni. Un giorno importante questo, che soprattutto a causa degli eventi pandemici impone una più ampia riflessione sulle attività che ogni giorno le persone con problemi sono costrette ad affrontare con enorme criticità. In prima linea per sostenere la causa, l'Automobile Club Omolise, che predispone iniziative e campagne di sensibilizzazione. L'accessibilità nella mobilità sicura è un diritto che dobbiamo promuovere e garantire. Si ritiene erroneamente che la riduzione della mobilità personale sia un fenomeno che coinvolge solo una piccola percentuale di persone. In realtà l'aspettativa di vita è sempre più lunga e gli anziani, che fisiologicamente hanno ridotte capacità, mobilitanti sono sempre più numerosi. Nella regione, nel 2015, gli over 65 erano 73.000, circa il 23% della popolazione residente. Nel 2020, 76.000, con un dato del 25%. Sempre più numerose risultano poi quelle che, a causa di un incidente o malattia, vedono la loro capacità di muoversi più o meno compromessa, anche per brevi periodi. Per tale motivo, l'Automobile Club sostiene, fornendo i propri servizi in modalità mirate, a superare ogni impedimento. Ne sono un esempio i servizi a domicilio riservati ai cittadini, impossibilitati a recarsi agli sportelli degli uffici provinciali. La giornata internazionale delle persone con disabilità si celebra dal 1981 per promuovere una più approfondita conoscenza sui temi della disabilità e per favorire la piena inclusione negli ambiti scolastico, lavorativo, sociale, sanitario e sportivo. Cambiamo ancora argomento. L'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli vuole favorire la costituzione di sei gruppi di lavoro per redigere un piano di rilancio dell'economia molisana. Per il commissario dell'ente Remo di Giandomenico, le attività turistiche dovranno affrontare una stagione diversa con uno spirito che apra la ripresa e il rilancio finanziario. I settori individuati per la costituzione dei gruppi di lavoro sono servizi turistici e lidi, agenzie di viaggio, associazioni, commercio, settore alberghiero e aziende agricole. Domenica 6 dicembre provvidenti dovrà rinunciare alla tradizione di pane e fave, la tavola dei poveri, una delle ricorrenze più longeve del Molise in onore di San Nicola. Il santo è venerato agli inizi del mese anche in altri 14 paesi della regione. Siamo adesso allo spazio del meteo. Pioggia diffusa oggi in Molise, le temperature sono comprese tra i 7 gradi la minima a Campobasso e i 14 gradi la massima a Termoli, venti da moderati a forti provenienti da sud-est. Mosso il medio adriatico, ancora precipitazioni piovose e valori climatici in leggero calo domani sulla regione. Siamo in conclusione di Telegiornale. Domenica 13 dicembre potrà riprendere regolarmente, almeno lo si spera, il campionato di calcio di Serie D. Questo grazie alle decisioni imprese dal Comitato Medico Scientifico. Vediamo questo contributo. La Commissione Medico Scientifica ha finalmente passato al vaglio la bozza del documento presentato dalla Lega Nazionale di Lettanti, finalizzata all'aggiornamento del protocollo di sicurezza. Un'operazione indispensabile al fine di procedere al riavvio dei campionati di calcio dilettantistici a carattere nazionale. La Commissione ha così delineato la strategia che le società e i suoi associati dovranno perseguire al fine di disputare le partite di campionato, evitando il più possibile la diffusione del coronavirus. I cardini su cui si poggia la strategia di prevenzione sono composti da protocolli e comportamenti da attuare sia dentro che fuori dal campo, individualmente e in forma associata. Prima di tutto è stata ribadita la necessità di un distanziamento obbligatorio di almeno due metri nel corso di raduni all'aperto e la limitazione delle riunioni al chiuso anche di tipo tecnico, evitando l'uso degli spogliatoi al fine di evitare ogni tipo di assembramento tra compagni di squadra, personale, tecnico e dirigenziale. Ma c'è anche il diveto assoluto di abbracci e altri comportamenti a rischio, quali cantare, gridare e avvicinarsi faccia a faccia in occasioni di gare e allenamenti. Per quanto riguarda le accortezze da adottare da calciatori associati, vige l'utilizzo privilegiato dei mezzi di locomozione individuale, l'interdizione di ogni attività sociale al di fuori del gruppo squadra, effettuata senza rispetto delle regole che tutti noi abbiamo imparato ad osservare in questi mesi, distanziamento sociale, utilizzo della mascherina e a cura da igiene delle mani. Ma i temi fondamentali su cui si sono maggiormente concentrati gli esponenti della commissione medico-scientifica non potevano che essere quelli legati all'attività di tracciamento, gestione e isolamento dei casi positivi al virus. Sulla base del DPCM, ancora in vigore, la commissione ha ritenuto percorribile la strada dell'utilizzo dei test rapidi, introducendo l'obbligo di tracciamento settimanale entro le 48-72 ore antecedenti la disputa di una gara. L'utilizzo dei test molecolari sarà comunque necessario in caso di positività riscontrata in quello rapido. La raccolta dei campioni biologici dovrà essere effettuata da personale medico adeguatamente formato. In caso di conferma, l'atleta positivo ai controlli dovrà essere trattato come un contagiato, dovrà essere disposto in isolamento e non potrà essere schierato in campo. Con questa strategia, la Lega spera di assicurarsi una ripresa tranquilla dei campionati dilettantistici, che dovrebbe avere luogo salvo ulteriori complicazioni il 13 dicembre prossimo, senza gravare in maniera troppo marcata sulle società già costrette a pagare le conseguenze economiche dello stop forzato causato dalla seconda ondata del Covid-19. E con questo servizio è veramente tutto, grazie per essere rimasti con noi, vi lasciamo alla nostra programmazione. Arrivederci. Grazie a tutti.